domani bandiera a mezzasta nei municipi per protestare contro i tagli il futuro dell'agricoltura siciliana se ne è parlato al centro studi piola torre domenica prossima ad altavilla milicia un importante raduno di auto e moto d'epoca buon pomeriggio ben trovati a questa prima edizione del giornale di media news oggi martedì 14 maggio lanci sicilia cioè l'associazione nazionale dei comuni d'italia la sua sezione siciliana ha proclamato per domani una giornata di proteste in occasione del giorno dedicato all'autonomia siciliana i municipi che aderiranno a questa protesta esporranno le bandiere a mezzasta per protestare appunto contro i tagli che sono stati impartiti dalla regione siciliana gli enti locali vediamo la finanziaria ha subito dei tagli ragionevoli i sindaci siciliani proclamano lo stato di agitazione specificando che un pugneranno parte del documento in particolare per ciò che riguarda l'addizionale all'accise dell'energia elettrica per questi motivi invieranno una nota ai prefetti dell'isola per informarli che in questa drammatica situazione non sono in grado di garantire un minimo di coesione sociale domani giornata dedicata ai festeggiamenti per l'autonomia siciliana in tutti i municipi verranno esposte per protesta le bandiere a mezzasta queste le iniziative più eclatanti progettate e discusse durante i lavori del consiglio regionale dell'ancisicilia che ha anche approvato un ordine del giorno in cui si chiede al governo regionale di provvedere al riequilibrio del fondo riportandolo quantomeno ai parametri approvati nel 2012 dopo l'impugnativa del commissario dello stato ha spiegato giacomo scala presidente dell'associazione dei comuni siciliani vogliamo ancora una volta lanciare il nostro grido d'allarme per ciò che riguarda i tagli irragionevoli al fondo per le autonomie locali impoverito di circa 200 milioni di euro ciò come ovvio mette in ginocchio non solo il sistema delle autonomie locali ma l'intero sistema paese al governo chiederemo quindi un nuovo documento finanziario che aiuti i comuni a risollevarsi a lavorare alla luce del sole non in trincea il presidente crocetta che campagna elettorale si è presentato come il sindaco dei siciliani non può ignorare questa fase drammatica e non preoccuparsi della stabilità del sistema degli enti locali proprio per questo motivo abbiamo già inviato al presidente della regione in un'auto in cui chiediamo un incontro urgente mentre domani avvieremo un dialogo con gli assessori regionali di competenza per chiudere l'accordo sul patto di stabilità cambiamo argomento 500 marines statunitensi sono stati trasferiti dalla spagna nella base di sigonella in provincia di catania per intervenire più rapidamente nel caso di nuovi attacchi in libia teatro ieri di un attentato nel quale sono morte almeno 15 persone lo ha annunciato il portavoce del pentagono george little secondo l'emittente nbc precisando che l'operazione è avvenuta nel weekend a gennaio all'ambasciata statunitense di tripoli sono stati trasferiti già 50 marine la recente decisione dell'inps di sospendere le visite fiscali d'ufficio per l'assenza e per malattia dei lavoratori del settore privato ha prodotto una drammatica condizione lavorativa dei medici fiscali il cui rapporto di lavoro viene posto in discussione dopo circa un ventennio di attività e quanto si legge nella nota che l'ordine dei medici di palermo è inviato al presidente della regione rosario crocetta l'assessore alla salute lucia borsellino dopo l'incontro del presidente toti amato con una delegazione di medici fiscali a determinare la decisione di sospendere l'attività la spending review giova sottolineare dice amato che la riduzione delle visite fiscali rappresenterebbe un falso risparmio ove si consideri l'inevitabile prevedibile incremento della spesa pubblica relativa alle assenze per malattia senza i previsti controlli e pertanto assolutamente prioritario prosegue ricercare forme alternative di risparmio della spesa pubblica garantendo il lavoro svolto dai medici fiscali che avrebbero difficoltà insormontabili di reinserimento occupazionale voltiamo pagina le strategie per ridare competitività all'agricoltura siciliana questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto al centro studi piolatore durante il quale si è discusso del futuro dell'agricoltura siciliana e di come si intende come intende e scusate intervenire il governo regionale c'è da portare avanti un confronto con tutto il mondo dell'organizzazione con l'impresa agricola con chi vive sul territorio agricoltura strategica per la sicilia in termini di reddito e di occupazione viviamo in un momento in cui si stanno definendo le nuove regole a livello comunitario un momento in cui c'è un governo nazionale di insediato e soprattutto che abbiamo portato avanti attraverso la finanziaria la riforma dell'assessorato all'agricoltura sono una serie di scelte che condizioneranno la vita degli agricoltori nei prossimi 10 anni vogliamo condividerle con il mondo produttivo valorizzando tutte quelle che sono le produzioni sicilie dal vino all'olio gli agrumi all'ortofrutta tutta l'eccellenza le tipicità l'identità territoriale in realtà da fare sempre una forza e un valore per tutta la produzione agricola siciliana chiediamo al governo regionale di uscire da una situazione di sostanziale diciamo blocco delle attività abbiamo bisogno di mettere denaro di parlare con le banche siciliane di fare come noi proponiamo una nuova legge sul credito agrario una nuova legge sul commercio in sicilia una nuova legge per la gestione degli enti regionali legati all'agricoltura abbiamo bisogno di quello che noi chiamiamo un pacchetto di riforme una stagione riformista perché l'agricoltura può dare un grande contributo enorme contributo per uscire dalla crisi drammatica in cui noi siamo cambiamo argomento è urgente sottrarre al degrado il casolare dove fu assassinato peppino impastato questa è la richiesta che il vicepresidente della commissione attività produttive all'ars l'onorevole salvino caputo ha fatto al governatore della regione con una interrogazione parlamentare i luoghi simbolo ha ribadito caputo come l'albero falcone i totem dell'autostrada a palermo punta raisi tutelati e curati stanno lì immobili a testimoniare che lo stato è presente e che non indietreggia viceversa l'abbandono in cui versa quest'altro simbolo che è il casolare nei pressi del quale venne ucciso peppino impastato è invece alleato della mafia il cui unico obiettivo è quello di mettere tutto a tacere per fare dimenticare la sua efferatezza e biltà il network rete cento passi ha avviato una petizione che ormai ha raccolto più di 30.000 firme con la quale si chiede che le istituzioni facciano un coraggioso passo in avanti per gridare la forza dello stato e del diritto con mezzi e gesti come quello dell'acquisizione del casolare del suo immediato utilizzo al servizio dell'educazione alla legalità e adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria tra poco è arrivato il digitale terrestre basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva continua a seguire le nostre tv sul digitale tele one sul canale 19 antenna 1 sul canale 185 e video one sul canale 196 non perderci di vista posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni potrai anche vederci nelle province di Catania caltanissetta enna e ragusa più copertura più qualità più servizi seguici sul digitale terrestre e in stato di fermo per tentato omicidio ascia crisanti peper amara singh la donna dello sridanka che ieri si è lanciata dal terzo piano di un palazzo in via antonio marinuzzi a palermo dopo aver gettato anche la figlia di due anni dal balcone dopo decine di interrogatori i carabinieri avrebbero ricostruito quanto successo ieri nel primo pomeriggio secondo i militari la donna verosimilmente in preda a una crisi depressiva dopo avere lanciato la figlia da un balcone al terzo piano ha tentato a sua volta il suicidio buttandosi anche lei dal terrazzo il provvedimento di fermo è stato firmato dal pm della procura di palermo pierangelo padova le condizioni della piccola sono stazionari e sempre ricoverata presso la rianimazione dell'ospedale dei bambini in prognosi riservata e a uno sversamento interno la madre invece è piantonata nel reparto di medicina d'urgenza ed è ricoverata per una frattura cambiamo argomento nasce a palermo un palazzo dedicato ai temi della bioetica della cultura e dell'arte intitolato a flavio beninati all'interno della struttura sarà messo a disposizione anche uno studio legale che assisterà gratuitamente le vittime di mala sanità riteniamo che durante lo stato di coma ci sia una coscienza anche se minima e quindi abbiamo pensato di fare questa su questa associazione di bioetica che si occupasse prevalentemente di coscienza minima coscienza coma e tutto quanto cammin facendo abbiamo invece pensato di dedicare l'intero stabile a flavio flavio beninati e quindi abbiamo ampliato anche i nostri orizzonti abbiamo pensato di fare una cosa molto più vasta molto più utile anche nel sociale e non fare soltanto ricerca ma fare anche cultura e quindi abbiamo fatto dedicato tutto il palazzo biblioteche e laboratori sale di disegno tutto l'intero palazzo dedicato a flavio noi siamo assolutamente senza fini di lucro autofinanziati indipendenti autonomi a politici a partitici non vogliamo contatti con nessuna con nessuna non vogliamo imposizione a nessuno lo sopra abbiamo uno studio legale il mio studio legale che sarà messo a disposizione assieme ad altri avvocati generosi di per difendere gratuitamente le persone che sono state vittime di malasanità dei loro parenti naturalmente oltre a questa struttura stiamo facendo anche un osservatorio sullo stato di coma e del post coma cioè per quelli che si svegliano e raccontano che cosa hanno vissuto e stiamo facendo anche un piccolo centro di ospitalità per le famiglie che hanno i parenti in coma basta un sms per segnalare un guasto agli impianti di pubblica illuminazione di palermo la nuova modalità è una delle novità del rinnovato sito internet di amg energia spa ovvero il sito è amg energia punto it con cui l'azienda mette a disposizione anche due nuovi numeri verdi differenziati e dedicati in maniera esclusiva al pronto intervento gas e ai guasti di pubblica illuminazione del servizio energia un sito internet oggi per un'azienda come la nostra sottolinea il presidente di amg emilio arcuri non solo una vetrina attraverso cui presentarsi ma anche uno strumento per comunicare per mantenere un costante contatto e dialogo con quelli che sono i nostri interlocutori primi fra tutti i cittadini ma anche i consiglieri di circoscrizione lavori in corso all'interno del giardino inglese di palermo maestranze dell'amapa lavoro in vista della kermesse del prossimo fine settimana organizzata dall'associazione addio pizzo una fiera del consumo critico anche all'insegna del principio dei beni comuni come l'acqua a cui l'amap aderisce come partner con la fornitura di due erogatori d'acqua potabile refrigerata a servizio dei partecipanti e con la sua presenza in un apposito stand dove verrà distribuito materiale informativo sulla qualità dell'acqua per l'occasione l'amap sta anche operando per rimettere in funzione due delle fontanelle storiche monumentali che si trovano all'interno del giardino inglese da molto tempo fuori uso a causa delle tubazioni betuste con diverse falle lungo il tratto interrato che le collega all'acquedotto cambiamo argomento tre scuole di diverso ordine e grado coinvolte in un progetto sulla legalità a bagheria ne abbiamo parlato con piera provenzano referente del progetto per la scuola media cirosciana è stato molto importante appunto coinvolgere i tre ordini di scuola perché abbiamo fatto un percorso educativo che praticamente fa partecipare bambini dall'età di 10 anni fino ai ragazzi dell'età di 18 anni quindi abbiamo potuto mettere insieme l'idea diversa che ogni bimbo ogni ragazzo praticamente ha durante la crescita per esempio abbiamo avuto la percezione del fenomeno della della mafia della legalità diciamo in un ventaglio di età che andava dai 10 ai 18 anni sì 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 questo è stato molto importante perché i ragazzi sono potuti praticamente rapportare tra di loro in un momento di crescita e ciò che è stato veramente fondamentale è stato le domande che avvenivano proprio fuori dal bambino dal ragazzo cioè noi praticamente davamo soltanto un piccolo input tutto poi nasceva da loro. Avete avuto anche degli interlocutori che in qualche modo dialogavano con i ragazzi? Sì abbiamo avuto la presenza degli interlocutori che erano praticamente lo staff della fondazione Paolo Borsellino che sono stati molto presenti anche perché negli anni precedenti sono stati anche presenti in altri progetti che sono stati sempre andati a buon fine e questo ha dato modo di di tenerci in stretto contatto proprio con con lo staff. Adesso ci fermiamo ancora per un po' di pubblicità tra poco. domenica prossima ad Altavilla Milica si terrà un importante raduno di auto e moto d'epoca vediamo presentato il raduno di auto e moto d'epoca che si svolgerà domenica prossima ad Altavilla Milica una iniziativa dell'amministrazione comunale in collaborazione con i club auto moto classiche le Aquile. I veicoli verranno radunati a piazza Matteotti dove sarà possibile la degustazione di prodotti tipici locali offerti dalla fonte Milica, cantina sociale Alto Belice, macelleria Giovan Battista Romano e American Bar che hanno sponsorizzato l'evento. Il corteo di auto e moto farà il giro delle principali strade di Altavilla soffermandosi in Contrada Sperone presso il vecchio frantoio San Michele dove verranno offerte bruschette condite di olio extravergine di oliva prodotte dall'imprenditore Michele Cuffaro che ha realizzato un impianto tipico del secolo scorso con tanto di mulino. Al termine del pranzo presso il parco giochi comunale Bim Bum Park il sindaco Nino Parisi premierà i veicoli più meritevoli assegnando un premio particolare al professor Nini Vaccarella una figura storica dell'automobilismo siciliano per le sue molteplici partecipazioni alla Targa Florio. Domenica prossima abbiamo questa manifestazione che coinvolge le auto e le moto d'epoca e per questo è unica nel soggetto che generalmente c'è l'uno o l'altro, tutte e due assieme non ci sono mai. È un'iniziativa che si muove nel territorio, serve a rilanciare, a promuovere il nostro paese, abbiamo bisogno di gente che viene al nostro paese a conoscere le nostre abitudini, i nostri usi e costumi, anche la nostra cultura culinaria. Abbiamo dei bei ristoranti, abbiamo dei prodotti tipici locali, quindi cerchiamo di promuoverlo attraverso queste iniziative sperando che ci sia un buon afflusso e dopodiché la gente ha un modo di godere anche questo moto auto d'epoca che si muove nel territorio, all'interno del centro urbano e all'esterno del centro urbano e che la zona delle contrade deve essere sempre coinvolta nelle nostre iniziative. L'evento si caratterizza diciamo come un evento che sicuramente sarà molto partecipato anche per la presenza del professor Nini Vaccarelli che come lei ben sa è una figura storica del mondo dell'automobilismo sportivo siciliano per i suoi trascorsi successi nell'ex targa Florio, ma non solo, è una figura un po' punto di riferimento anche nel mondo dei veicoli d'epoca perché sono veicoli che oramai hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano. Siamo felicissimi di essere nel comune di Altavilla Milica, lo siamo stati per il passato, lo siamo ancora più oggi e lo saremo sicuramente ancora più contenti anche per il futuro. Domenica scorsa ad Altavilla Milica si è tenuta la giornata delle lingue su iniziativa dell'Istituto Comprensivo Monsignor Gagliano. Giornata delle lingue ad Altavilla Milica per iniziativa dell'Istituto Comprensivo Monsignor Gagliano che da oltre sei anni svolge il ruolo di centro di certificazione Trinity College London. Numerosi stands sono stati allestiti nella zona del Belvedere, da quello dell'amministrazione comunale a quello di Trinity, quelli di varie associazioni culturali e sportive della zona e quelli delle case editrici e delle scuole di lingua. Coordinatore delle varie manifestazioni è stato il professor Giuseppe Di Franco, referente di lingue dell'Istituto Scolastico, che si propone di sensibilizzare gli studenti e i loro familiari sull'importanza dello studio delle lingue straniere e della certificazione delle competenze linguistiche. Erano presenti tra gli altri il sindaco Antonino Parisi, il dirigente scolastico professor Angelo Fontana, la professoressa Maria Francesca Muscarà e i rappresentanti di alcune case editrici che hanno aderito all'iniziativa. Oggi alla scuola Pirandello di Bagheria un collegamento virtuale con le scuole d'Europa nell'ambito del progetto e-twining. Intervista. Stiamo celebrando la settimana della spring campaign, della campagna di primavera e-twining e stiamo cercando di diffondere l'azione e-twining, la progettazione. Cosa vuol dire, cosa vuol dire? E-twining vuol dire gemellaggio elettronico, la E iniziale sta per elettronico per appunto tutto ciò che riguarda internet, e-twining è il gemellaggio. Quindi i progetti e-twining sono proprio gemellaggi che avvengono a distanza tra... Attraverso lo strumento comunicativo. Sì, abbiamo una piattaforma ben precisa che viene... Una piattaforma interattiva dove noi registriamo i nostri progetti, possiamo cercare i partner di progetto, fare dei progetti brevi o dei progetti lunghi, annuali, quindi dipende anche da quello che vogliamo sviluppare. Nel pomeriggio dalle 3 alle 18 avremo un incontro seminariale con i docenti che si sono iscritti per partecipare dove presenteremo, divulgheremo l'azione di e-twining e faremo delle attività laboratoriali per introdurre questi docenti nel mondo di e-twining. Quindi cercheremo di far vedere loro come si fa a registrarsi, come si può proporre un progetto, come si cerca il partner e quindi poi li seguiremo eventualmente in un progetto che vorranno realizzare. Questa sera alle 20.30 la stagione dei concerti al Teatro Massimo di Palermo prosegue con il secondo dei tre appuntamenti omaggio a Verdi ideati nel bicentenario della nascita del grande compositore. Il concerto omaggio a Verdi 2 rientra tra l'altro nel programma dei festeggiamenti della settimana del Teatro Massimo in occasione dell'anniversario dell'inaugurazione 16 maggio 1897 con Falstaff di Verdi e della sua riapertura dopo 23 anni di chiusura per restauro il 12 maggio del 1997. Sul podio dell'orchestra e del coro del teatro torna, dopo il successo di Aida, Stefano Ranzani. Ospiti tre solisti, Serena Farnocchia, soprano Giorgio Berruggi, tenore e Dalibor Yenis, baritono. Il coro del teatro è diretto da Piero Monti. Nient'altro per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguiti. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e Daliborio